ciao ragazzi siccome mi è stato chiesto come catalogo tutti i miei film e ho deciso di realizzare questo video giusto così per potervi far vedere più nello specifico l'applicazione che uso io da tanti anni per catalogare tutti i miei film ovviamente quando si comincia davvero un numero importante di film il catalogo preserva da specie voli sorprese quali appunto acquisto di film doppi e vi dicendo e poi insomma sempre carino siccome avere tutto il proprio archivio proprio database a portata di mano nella fattispecie il software che attualmente uso io è dvd profiler della in veloce allora è un software non aggiornatissimo però diciamo mi trovo mi sono sempre trovato bene di conseguenza sto andando avanti da tempo ad utilizzare lo stesso software diciamo questo che dvd profiler è un'applicazione per windows della quale poi è stata fatta una app per cellulare devo segnalare però purtroppo questa cosa e io ho sempre utilizzato effettivamente la sua app via 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 telefono con su android e con il cambio telefono che ho preso un pixel 7 pro quindi un google phone e ho scoperto che purtroppo la sua app non può più funzionare perché è una vecchia app che non è mai stata aggiornata sviluppata con librerie in 32 bit invece il nuovo android con il nuovo software su android che che monta pixel 7 è compatibile sono con applicazioni 64 bit quindi un problema sostanzialmente che può interessare anche altri dispositivi e in questo caso non c'è nulla da fare attualmente per cui ho questo piccolo handicap che appunto non riesco a utilizzare di recente l'app sullo sullo smartphone però vabbè lato computer mi funziona e c'è la possibilità che adesso vi farò vedere comunque di sincronizzare il proprio archivio in una sorta di pagina web la chiamo sorta di pagina web perché purtroppo non è niente di responsive è una cosa abbastanza rudimentale per il momento sto mi sto adeguando ecco con con questo meccanismo proprio perché io sullo smartphone quando magari giro appunto mercatini per analizzare un po tutto quello che è il mio archivio per vedere se un film ce l'ho già o meno e mi sto avvalendo effettivamente di questa pagina web pur scarna che sia in buona sostanza però bisogna dire questa cosa che se voi principalmente catalogate attraverso il computer come faccio io allora l'utilizzo di dvd profiler secondo me è assolutamente consigliato se invece usate prevalentemente lo smartphone proprio per catalogare film e quant'altro allora direi che l'applicazione più consigliata è my movies l'ho provata anche lato windows e non funziona per nulla male è che comunque con il suo strumento per importare da dal mio vecchio dvd profiler non funziona bene ci sarebbe troppo lavoro da fare quindi in attesa che appunto possa essere sistemata la questione dell'applicazione vado avanti con dvd profiler il software allora si presenta in buona sostanza in questo modo allora è molto personalizzabile perché si possono scegliere diversi layout ci sono già file preimpostati attraverso il sito ufficiale che si possono scaricare gratuitamente e quindi ci vanno un po a impostare effettivamente tutto poi il contenuto quindi ho copertina fonte retro qui l'elenco comunque dei film che tengo per per anteprima è tutto comunque molto personalizzabile stessa cosa anche i report di stampa se vogliamo fare una stampa in pdf stampa cartacea di tutti i nostri film si dà appunto la possibilità anche di scaricare dei file di report per gestire in maniera più o meno ottimizzata effettivamente la stampa e quindi anche questa non è una cosa importante perché per fare dei check bar ecco di collezione mi ha capitato anche in passato di dover stampare tutta la mia collezione e con questi strumenti ci sono riuscito perfettamente la logica poi abbastanza semplice noi qui possiamo per dire quando ricevo un film nuovo io qui posso aggiungere attraverso il suo codice a barre il film lui ovviamente appena andiamo ad aggiungere film si collega comunque all'archivio del database certe volte effettivamente è purtroppo un po lento e una volta raggiunto il database ecco noi da qui andiamo ad inserire il nostro codice ISBN se il film effettivamente già presente in archivio allora qui ci comparirà il film e lo possiamo aggiungere diversamente se il film non è ancora presente allora si può scegliere di aggiungerlo per crearlo da zero o se no giusto per svelare con po tutto quello che faccio io uso sostanzialmente questa tecnica cioè vado a cercare il film magari in una edizione estera poi vado a modificare il tutto sulla base appunto del del film che vado inserire quindi cercando per titolo facciamo conto che voglio aggiungere un film mettiamo rocky io vado a cercare qui va bene adesso in questo momento è filtrato per l'italia però posso anche cercare poi in tutti i paesi facciamo conto di comunque io voglia inserire un'edizione di ecco la casetta indica che il titolo in corrispondenza è già nella mia collezione facciamo conto che io voglio inserire ecco una edizione similare di rocky io vado a doppio clic quindi vado a prendere questa edizione di rocky io poi i film qui ce li ho in ordine per inserimento per data di inserimento quindi mi dovrebbe comparire esatto qua in alto a questo punto poi col doppio clic sul profilo posso andare poi a modificare il tutto quindi anche copertina fonte e fonte e retro e vari contenuti di dischi e tutto quanto una volta poi salvato è importante andare a modificare il codice di sbn e da qui effettivamente possiamo cambiare codice di sbn ecco upc con il codice che corrisponde al film inserito e qui possiamo anche qualora fosse un'edizione comunque estera o usiamo come template diciamo così l'edizione estera invece nella nostra edizione italiana andiamo a modificare il il nostro codice la cosa interessante che tutti i profili che eventualmente noi andiamo a caricare possiamo ovviamente renderli disponibili poi per altri utenti quindi mandarli inviarli al database di in veloce molto semplicemente qui noi selezioniamo il titolo creato online e c'è poi la voce contribuisce con un profilo dvd in questo modo il profilo mancante che noi creiamo possiamo renderlo a disponibili ecco per altri utenti poi vabbè in questo caso ovviamente devo rimuovere dalla collezione io qui vado a rimuovere il film e stessa operazione se per dire sostituiamo perdiamo alcun film da cui si può rimuovere poi vabbè qui sostanzialmente ci dà un'indicazione di tutti i film posseduti se vogliamo gestire una questione di lista dei vari film che ordiniamo qui possiamo generare una lista dei film ordinati che poi man mano che arrivano ci arrivano i film appunto li possiamo spostare e qui anche possibile fare effettivamente una lista dei desideri cosa che io non ho mai utilizzato io mi uso sempre il mio database in questo modo poi diciamo da qui possiamo vedere appunto come lista come dettagli ci sono varie impostazioni e come dicevo se voi catalogate attraverso il computer come faccio io secondo me è un'applicazione assolutamente interessante la uso proprio da tantissimi anni e poi come dicevo si gestisce ecco molto bene a me non piace catalogare comunque da smartphone perché voglio essere più preciso possibile in tanti film poi magari ecco anch'io vado a semplicemente cambiare la copertina proprio perché magari troviamo il profilo ma le copertine non sono precise mi piace sempre avere fonte e retro del film che vado ad inserire e questo diciamo è il funzionamento generale come allora vediamo questo aspetto come dicevo è possibile una volta che noi abbiamo il nostro archivio uploadarlo in rete proprio per renderlo disponibile in questo sito che vi dicevo prima quindi per sincronizzare noi qui dal reparto online abbiamo la voce dvd profiler online ok lui qui ci chiederà se vogliamo fare un upload o un download del database in questo caso è un upload quindi qui ci dice effettivamente che i titoli posseduti 6103 quelli online che verranno sopra scritti sono 6101 quindi effettivamente devo fare una sincronizzazione di due titoli quindi andiamo avanti e lui in poco tempo sono due titoli andrà a aggiornare effettivamente il profilo online è questione adesso di aspettare qualche istante poi dicevo purtroppo molto spesso appunto la sera è sera adesso che sto registrando il video sono un po più lenti serve ok a questo punto una volta sincronizzato noi abbiamo un sito di questo tipo in cui praticamente è contenuta poi tutto il nostro database e questo sito come dicevo vabbè qui a questa sorta di personalizzazione ma è un sito non responsivo insomma non sicuramente una cosa troppo tecnicamente troppo perfetta però diciamo che è comunque insomma utilizzabile anche da smartphone è ciò che sto utilizzando adesso proprio perché non mi funziona per l'applicazione ma di ogni film almeno io posso vedere effettivamente che edizione ho con le copertine vedere effettivamente il codice isbn di riferimento così trovo qualche titolo magari di cui ho l'incertezza posso sempre usufruire del mio archivio l'applicazione che uso io appunto è questa vi ho già aperto il sito questa qui della in veloce ha un costo veramente basso adesso non ricordo quanto ma un costo una tantum di veramente di pochi euro poi appunto questa l'applicazione per per windows qui poi avevano sviluppato le due applicazioni per ios quindi per iphone per android per android attualmente a quel problema che dicevo spero che insomma prima poi venga registrato venga sia aggiornato e l'altra applicazione che dicevo prima che vi ho menzionato è my movies questa è un'applicazione un po più articolata sotto certi punti di vista però anche qui offrono tutta una serie di servizi a pacchetti anche questa ripeto se usate voi lo smartphone come strumento principale per catalogare i vostri film allora è sicuramente un'applicazione che può fare il caso vostro e anche questa viene venduta poi a pacchetti come dicevo un attimino più da studiare però un'applicazione che ho provato e comunque non è male giusto per per cronaca molto bella livello proprio di design grafico e quant'altro è questa applicazione di collectors questa l'ho testata l'ho provata mi ho iscritto effettivamente per la prova allora questa graficamente tecnicamente parlando la migliore applicazione che abbia mai visto c'è un problema che a livello di database italiano c'è veramente pochissimo di conseguenza qualora dovesse adottare adesso questa applicazione mi serverebbero anni per allineare il database per cui insomma attualmente quindi resto con il mio dvd profiler come come dicevo e che comunque sono assolutamente contento così insomma almeno potete vedere una panoramica del programma poi diciamo che anche questo software assolutamente intuitivo voglio dire di ogni film noi possiamo come dicevo prima accedere senza da un po tutte quelle informazioni utili dal titolo titolo originale la data di uscita del dvd il tipo di custodia il prezzo la società del supporto ci sono tante informazioni effettivamente modificabili e quindi sicuramente insomma utile e anche per me ovviamente questo è un riferimento perché ogni volta che mi arrivano film nuovi ovviamente li vado a inserire o se devo fare comunque qualche upgrade che devo rimuovere un vecchio film da qui lo posso selezionare appunto poi col comando rimuovi viene tolto dalla dalla collezione e secondo me devo dire come e mi ripeto ancora però se usate effettivamente il pc come riferimento per la vostro archivio della vostra cineteca allora assolutamente un'applicazione che vi consiglio perché io dopo tanti anni di utilizzo sono veramente soddisfatto poi dopo tempo che il database non viene salvato la chiusura vi chiederà se volete fare un backup cosa che io faccio con regolarità su un hard disk esterno proprio per avere un salvataggio di sicurezza in caso di disastro è vero però che se usate appunto il profilo online come ho fatto vedere prima anche lì comunque è un'ulteriore coppia dell'archivio e punto qui punto possiamo come dicevo poi sfogliare un po tutto il nostro archivio di film la nostra collezione e mi direi che assolutamente semplice poi qui abbiamo il campo cerca quindi se io vado a cercare un film mettiamo il gladiatore ho sbagliato si qua ok ok il gladiatore andremo a trovare effettivamente in collezione tutti i titoli che abbiamo associati al titolo che abbiamo cercato l'altra l'ultima cosa che vi faccio vedere allora cerchiamo ad esempio un cofanetto che ho qualcosa che ho inserito vediamo di recente ecco ad esempio questa edizione di tremos che contiene un cofanetto i cofanetti ci vengono inseriti con questo segno più e da qui possiamo andare a vedere visto che questo un cofanetto che contiene vari film da cui effettivamente poi abbiamo l'esploso di tutto il contenuto del cofanetto anche questo secondo me è molto utile perché io appunto mi posso visionare inizialmente la parte esterna del cofanetto se voglio sapere che cosa contiene in questo modo appunto è ovvio sono stati inseriti tutti i vari profili dei quattro film come in questo caso ma abbiamo effettivamente tutta la nostra collezione completa tra cofanetti edizioni singole quant'altro poi insomma c'è una bella distinzione tra blu ray dvd e come dicevo per me è assolutamente questo un programma promosso spero di fatto che questo video sia stato abbastanza esaustivo appunto come dicevo mi era stato richiesto un po di vedere come quello che io utilizzo per l'archiviazione dei miei film e quindi insomma mi auguro che possa essere utile a qualcuno con questo direi che è tutto come sempre per qualsiasi domanda me lo scriverete qui sotto nei nei commenti seguite mi raccomando il mio canale per qualsiasi tipo di interesse nei confronti del collezionismo a un video o del cinema a carattere generale un saluto e ci vediamo il mio prossimo video